Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. Per le statali sulla statale 223 di Paganico, traffico fermo per un incidente all'altezza di San Salvatore a Pilli in direzione statale 715, statale 73. Ci spostiamo sulla statale 12 della Bedone del Brennero, cantiere aperti tra Piano Sinatico e Dogana Nuova nei due sensi di marcia. possibili rallentamenti. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario l'InterCity 651 Milano Centrale e Livorno Centrale sta viaggiando con 101 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione è al momento previsto alle 12.16, salvo recupero. In chiusura per il traffico aereo il volo Firenze-Francoforte delle 10.05 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 10.30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!